Salve signora, non era lei che prima al bar si era sentita poco bene per via della cervicale? Mi fa male, io non sto bene! Mi scusi signora, non faccia così, la prego. Le chiamo qualcuno? Non pensa che restare in mezzo a questa confusione le possa peggiorare ancora di più la situazione della sua cervicale? Mi fa male, io non sto bene! Signora, la cervicale è molto fastidiosa, anche mia madre! Mi fa male, io non sto bene! Mi scusi, non ha visto che sua moglie stava...